buongiorno cari amico da paolo il giorno di oggi che cosa faccio faccio un circuito per demagrire e veloce a casa in questo periodo che ti avanza così tanto tempo che è meglio che che fare 10-15 minuti per nostro corpo la salute bellezza e la bellezza e salute per oggi abbiamo bisogno di una bottiglia di acqua un asciugamano un tapetino e anche la buona attitud la voglia e il deseo di migliorare le ricordo prima di iniziare importante dobbiamo mangiare qualcosa che sia no tan pesante dobbiamo dobbiamo prima di iniziare non dobbiamo fare attività fisica senza mangiare ni attività fisica con la pancia troppo piena dobbiamo mangiare qualcosa leggera por esempio prima di fare questo ho bebuto una spremuta con una crostatina dopo quando finisca questo ejercicio che mi va lasciare così morto senza energia faccio una prima colazione energetica al final te voy a lasciare la prima colazione lo che mangio io perché la gente mi dice pablo tu che mangiare? che mangiare? bueno, te voy a fare vedere che cosa devi mangiare dopo questo ejercicio, certo? si fa la prima colazione, si stai guardando il video del pomeriggio dopo vai il pranzo energetico ok, perfetto, vamo a lasciare questo qua, vamo a lasciare questo qua, vamo a lasciare a fare un pochino di movimento, metole un pochino la jacka, la jacka, la jacka che fa un pochino di caldo, vamo a tirare il cronometro, metole un pochino qua, vamo a sudare un pochino ok, perfetto, perfetto, vamo a lasciare con un pochino di mobilità, di braccia, di gamba, vamo a fare questo, 40 segundi di lavoro con 15 segundi di recupero, nel recupero sarà un recupero, diciamo, attivo, vamo a stare un pochino in movimento, non lo vamo a fermare perché perché se tu ti fermi dopo il prossimo ejercicio non hai la voglia, la energia di iniziare ok, muovete nel posto, muovete, 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 ok, perfetto, piego un giudò, piego, salgo, piego, salgo, piego, salgo, piego, salgo, piego, salgo, ecco, è un pochino, perfetto, perfetto, porto talone indietro, ok, cambio ok, perfetto, questo circuito, io ho portato nuovi esercizi, io lo voglio ripetere due volte, tu a casa lo puoi ripetere due, tre, quattro, tutto lo che vuoi, va bene? va bene, ok, perfetto, perfetto, buona energia, ok, prima di iniziare, ora vamo a bere un po' di acqua, perfetto, capetino qua, ok, la chugamano, e vamo a iniziare nostri esercizio, vamo a metter il timer, approssimatamente questo dura 16 minuti con 30 segundi, ok, ok, perfetto, 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 te doy tempo, te doy tempo che respire profondo, perché va a ser continuo, vamo a demagrire, ok, perfetto, vamo a iniziare, vamo a iniziare, buona attitud, respiro profondo, ok, ti ha dato il tempo di muovete, ok, perfetto, vamo a iniziare nostri 9 esercizi per demagrire, 3, 2, 1, 4, 3, ok, nuestro primo esercizio, guardalo qua, toco, 1, 2, 3, nuevamente, 1, 2, toca, 1, 2, 3, va, toco, 1, 2, 3, va, 1, 2, toca, 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 1, 2, 3, va, 1, 2, 3, va, 1, 2, toca, 1, 2, 3, va, 1, 2, il nostro prossimo, siamo a parare un pochino la pera, tipo Puglile Puglile preparate, muovete, 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 muovete muovete nel posto, parola qua, cuesta, cuesta, gira, gira, gira mantente il movimento, muevi piedi, muevi piedi muevi, 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 puede girar, avanti, indietro, indietro, avanti su, 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 muovete, muovete forza forza ok adesso, prossimo vovo toccare, talone abro braccio talone y abro braccio vamos a parecquesto il prossimo ok, si va toco grande 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 abre grande toca perra stiamo lavorando qui le braccia abro, abro grande grande, abro i braccia grande talones toca a terra a a c c de que estos ejercicios serven para demagrire serven definitivamente si muévete un poquino muévete un poquino nuestro próximo vamos a llevar el ginoquio sub sub el ginoquio sub el ginoquio me muevo me muevo me muevo me muevo pues esto es una pausa activa ok, se va va ta 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 si 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 ah 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 come mi piace questo a mio, come mi piace, come mi piace, su, 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 importante a tutti questi esercizi abbinare una sana e corretta alimentazione, dormire bene, evitare tanto il liquore, troppo timore sti, tutto con moderazione, mi muovo, con mi muovo, con nuestro ultimo, scuote tipo ronaldo me muovo opcję poi miierencio bueno Rede di pace a Cristiano Ronaldo Da, 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 da. De seguito, solo quarenti, di segundi, da, 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 sì, sì. Ok, il prossimo mettiamo un pochino il plan, il plan, il plan il plan il plan mi muovo, mi muovo mi muovo del posto mi muovo, mi muovo il plan avanti perché questo è il tapetino e tutto il tapetino lo puoi fare a terra il 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 Vemmo, 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 vemmo. facciamo il stacchi, dopo il ginocchio su stacchi, 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 ginocchio su, esciendo, ginocchio su, stacchi, ginocchio su stacchi, 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 stacchi e sciendo, salto, tra, ok, ok, continua, continua, adesso il prossimo, mano tocca talone, mano tocca talone, mano tocca talone, continua, 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 la corsetta, mano tocca talone, vanno qua io lo repito due volta, tu lo repite 3, 4 muovete del posto, muovete, prossimo, jumping jump jumping jack, jumping jack, es el ultimo, e iniciamos de capo ok, jumping jack vamos a iniciar de capo, de capo de capo, de capo mano, ginocchio vamos a cambiar de gamba, vamos a iniciar con esta 1, 2, tocco 1, 2, 3, va 1, 2, tocco 1, 2, 3, va 1, 2, tocco, corsetta 1, 2, 3, va 1, 2, tocco 1, 2, 3, va 1, 2, tocco, tocco corsa 1, 2, 3, va 1, 2, 3, va 1, 2, 3, va 1, vamos al otro ok, vamos a hacer la pera, la pera la pera mantente, mantente firme mantente firme tu toco este esfuerzo, vendrá pagato muestro, te lo digo yo muévete, muévete la pera la pera muévete muévete mueve le brazo, mueve le brazo mueven que el piedi si si, 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 si 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 si, 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 continuo continuo, continuo continuo in dietro, in dietro, su su su, resiste, resiste, tutto questo esforzo vendrà pagato, anche io sudo con il te, ok, muovete, muovete, prossimo, talone, abro braccio, talone, abro braccio, mantente, mantente, continua la corsetta, continua, ok, cambiando, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continuo, 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 6, abro braccio, tra, diritto, diritto, la gente me dice, Pablo, sorride, sorride, como che non si stanche mai, anche io mi stanche, il menino sorridere, che lo piangere, si, 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 vendrà quanti, tanti, risultati, si tu, te alene, si tu sei costante, si tu sei costante, vas a vedere, grande risultato, io consiglio di fare questi esercizi, almeno, di due a tre volte, a settimana, adesso, vamos a llevar il ginocchio su, cambio di gamba, guarda, uno, ta, 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 si, grande, 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 muovete, muovete, tu corpo, abisoño del movimento, si, si, ta, 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 si che vita, che movimento, justo, no? eh, prossimamente, dovare gli esercices con il pessi, pessi, le esercizi con pessi, aCC paremo, le bracchie, le gamba, il glute, 들어 tanto, so, segui sk conse, ronardo, тебя rotto, manten Carl Bertramツ, manten, manten te firme, camina,bilan ayudati, fusione,oti up avanti, Abra questa misura la spagna Su Ta 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 Si Si Igual a Cristiano Ronaldo Igual al caballo Cristiano Ronaldo Ta 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 Importante mangiare tanto Vegetali La fruta Si Nuestro corpo Sempre sta sano Continua Vamos a cambiar el plan Mano Va a tocar el ginocchio Mantente Mantente Ok Ok Mano contraria Toca ginocchio contrario Vamos a fare questo Lentamente A tu ritmo Un po' equilibrio no? Mano contraria Toca ginocchio contrario A 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 un po' l'abdominale le voy a lasciare al final unos ejercicios de abdomen que le puedes avivare dopo di questo allenamento ok, vamos a poner peso morto peso morto, va dopo, escienda, esquina direita, salgo e questo le puoi aggiungere un peso salgo, escienda, escienda direita, nuevamente escienda, 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 salgo Cercando, prendendo, prendendo il stacchi e salgo, è un stacchi senza pesci! Ok va, nuovamente, ok, muovete 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 muovete! Mano con la tuaто'sa, stiamo quasi finendo, mano dietro con la tua tavola mantente in corsa, in corsa, in corsa, in corsa, guardalo qua, mano, tocca talone, amortigua la caduta esercizi per demagrire, hit ok, ultimo esforzo, ultimo esforzo, jumping ya, jumping ya, jumping ya, ultimo esforzo, ultimo ok, ultimo esforzo ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, si tu l'hai fatto al finale, sei grande, tu salute, te ringrazia tutto questo esforzo ah, 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 molto bene, molto bene, abbiamo finito, abbiamo finito, a questi esercizi, vamos a aggiungere un po' abdominales te voy a l'achare lì con le abdominales di fare, in 8 minuti, così, abbinano, questo esercizio, abdominales, così, sei tu, in forma te lo consiglio, repitelo, de una, no, de due, a tre volte a settimana ok, vamos a fare un pochino di stretche, in stretche, in stretche, si vuole un pochino di stretche, si vuole, si vuole, non incrocio, non incrocio, lentamente cambio ok, un passo avanti, una gamba piegata e lentamente, 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 echendo fino a dove io riesco cambio punta verso di me perfecto, gamba su, gamba su, gamba su un pochino di equilibrio cambio su, 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 su adesso, quando tu te due, lo so che cadena, me sto escherzando adesso guarda qua talones al glute, sono un pochino con trato, non sto arrivando anche io, però tu arriva ok, perfecto, cambia stiamo demagriendo tanto, dobbiamo fare un pochino di pezzi, di pezzi, non paolo è magro, non c'entra niente ok, se tu ti allenas così, puoi mangiare tutto lo che vuoi, però se tu mangia, mangia, non fai niente dopo poi è un problema, è un problema adesso guarda, muevo un pochino il piede, muevo un pochino il piede è così, piego il ginocchio, schiena diritta, giro cambia ok, nuovamente piego il ginocchio lato cambia ok, perfetto, metto un pochino la spalla, la spalla indietro, indietro, avanti su, in yu ta, 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 ta no se mi frega niente ok, abbiamo finito il giorno di oggi, grazie a tutti per guardare questo allenamento fisima si tu ancora non ti sei inscrito, iscriviti ad esso, lasciami tu commento che io ti respondo activa la campanina così tu sei il primo in allenarti e meterte in forma la salute costa, la bellezza costa, tutto costa por quello, vamos a iniziare desde capo, piano piano grazie a tutti, decore pablo l'entrenamento bene, non è stato quasi tanto forte come si apaga bene? gopro apaga video l'entrenamento l'entrenamento le 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 il Grazie a tutti